Non è il carattere che manca ad Andrea Cutrufo, 11 anni, né tantomeno la voce. Ed è quella di cui si è servito per denunciare una situazione che definire vergognosa è un eufemismo. Da un anno infatti è fuori servizio l'ascensore della linea 1 della metropolitana di Piazza Medaglie d'Oro a Napoli. E lui, costretto su una sedia a rotelle da una patologia congenita al midollo, non può veder rispettato un suo diritto, così come altre migliaia di persone. Non la trovo ingiusto che una persona con carrozzini a persone anziane a mobilità ridotta devono essere penalizzate per il fatto che non possono prendere l'ascensore, per il fatto che l'ascensore è guasta. Se tu avessi la possibilità di iscrivere al sindaco, cosa gli iscriveresti? Che dobbiamo muoverci perché non è possibile che nel 2024 una città come Napoli è in questa situazione penalizzando e mettendo in difficoltà le persone come la mia situazione e anche altre situazioni in questa condizione che non possono usufruire della metropolitana. Non fate gli indifferenti, lottiamo insieme per questo ripristino dell'ascensore. Ad affiancare Andrea nella sua battaglia per veder rispettato il diritto al trasporto pubblico la mamma Anna Maria. Per me è significato un disagio notevole, oltre ai tantissimi disagi che già vediamo nella città di Napoli che non è a misura di disabile, perché questo lo devo dire, di base, se ne aggiungono degli altri come questo dell'ascensore che è gravissimo. Un disservizio che non riguarda solo la stazione di Piazza Medaglie d'Oro visto che anche in Piazza Van Vitelli e a Rione Alto sono guasti gli ascensori.